Signori miei carissimi, ben ritrovati Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati Guarda che roba Questa qua fa la centralinista della Telecom Ferma, immobile, sta aspettando le chiamate per l'assistenza Sulla licea DSL Adesso andiamo a parlare Ma no, ci ha fatto fallire la missione Ma godo, godo tantissimo Andiamo a parlare con dottor Alvin E se possiamo gli freghiamo il chip Ma non credo Eh? Sta barcendo comunque, puzza Fa qualcosa Sì, 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 immagino Ho avuto queste condizioni lavorative E sarei proprio successivo che lui Ha detto che mi necessiterò un tipo di dispositivo Per downloadare i codi di sicurezza di Skynet Da un HK Hai lo? Sì Sì, per questo Eh, ricordate quel giorno in downtown? No 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 ma ragazzi Il finale è ancora peggio Cioè non sapevano proprio che cazzo farti fare qua E urla E urla Ma è scemo Ma è scemo Questa cosa stava uscendo Senza la roba È incazzato come un app Un'altra roba Dove cazzo devo andare? Cosa vuole Bumper? Perché ci incontriamo qua mi dici qualcosa di segreto? Sì, sì. Vi vedo belli attivi infatti. Cosa vuoi fare, non importa il costo. E così avrei. Non credo che i tuoi esercizzi non rinforzati. Vedi, avevo ucciso un uomo lungo prima che avevo ucciso la mia prima macchina. E avevo ucciso da un uomo lungo prima che la macchina mi ha ucciso. A parte dei plasmaburni, ho ucciso 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 dietro questi tatuati. E non l'ho mai dimenticato. I buoni giorni, non si trattano. E mi sento che questo mondo sia valutato per l'attività. I buoni giorni, mi fanno rinforzare. E mi fanno rinforzare e rinforzare come tutti gli altri. I tuoi esercizzi. Skynet è quasi finito. Quindi tu puoi capire che non posso rinforzare. Ehm... Ho bisogno di tua scelta, Jacob. Ho bisogno di te. E' un'imperdittabile. Ha sabotato la nostra missione e ha ucciso i nostri uomini prima. Non posso farlo ancora farlo. Ho bisogno di uccidarlo dopo aver riprogrammato l'attività. Si, si, dai, facciamo figli di troia. Vai, vai! Io sono. E' quello che ho pensato. Eh, magari ci scappa anche uno smano, incredibile. Oh! Beh? Ho bisogno di essere fatto, Jacob. Ho bisogno di essere fatto. Co che? Eh? Ma da boh? Madonna, scappa uno smano veramente! Oh, madonna. Si, taci, va. Oh, madonna. Si, così, i belli zozzoni. Si lavano il su... Oh, madonna. Oh, madonna. Oh, madonna. Bello. No, ma è... E' molto intrigante. Allora che paura che fa lei da così vicino. Oh, no, vedi che andava fatta questa cosa molto meglio. Oh, no, no. Moriremo, sì. Oh, no, 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 no. Non lo so, ma... Oh, no, no, no. Oh, no, 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 no. Boh, morto. Posto. Infiltrato anche lei. Eh. Eh. Closi la porta dietro te. Madonna... Usati! Usati malamente! Aaaaaaaah! no no secondo giro no boh posto è zippo fatto corre molto più rapido adesso una rosa per jessica ciao grazie ma donna svuotato in maniera no sai no maniere in vera econda questa qua che poi c'è venuto scritto baron si fida abbastanza di te abbastanza non è che ha detto cavolo la fiducia che ripone in te a livello massimo è a livello medio alto no abbastanza abbastanza a casa mia un 6 e mezzo neanche 7 quindi questa qua per l'abbastanza te la sbatte in faccia dai grande grande comandante grazie mille ma avrà attaccato sette malattie scabbia l'onorrea pronto è quindi io io ho fatto da niente e non scopa niente vi no bombi salda 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 che modo e noi ci buttiamo sul comandante fi che gioco di merda madonna mia che cliché del cazzo pronta ah vado in missione no 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 volevo farmi le bombe sono dimenticato vuoi lasciare l'area a nulla ma mica per le secondarie a me dei secondarie non frega niente devo solo finire la campagna e c'ho il platino tonante io volevo costruirmi un po di merda ciao ormaiolo preservativi ma a lanciarazzi questo missili a guida infrarossa questo lo voglio allora io toglierei sto cesso o togliere guarda armadietto rifornimenti se io faccio così mi vanno sui soldi sì vero questa cosa che fa stimolante di riflessi stimolante di forza lo terrei è vabbè ho dato via della roba me ne è tornata l'altra ciò perché c'ho due fucili via io mi prendo lanciarazzi no mi piace lanciarazzi e 30 colpi cazzo bisogna anche dei posti danno 3500 va bene va bene quanto costa i 3000 ma ce li ho non me ne frega un cazzo guarda ce li ho li spendo che cacchio me ne frega così tengo qua a fare questa leviamo dalle palle mi compro tutti i razzi missile a guida laser per il lanciarazzi 43 è questo no rl 92 noi dobbiamo comprare questi rl 92 non ho bastato ma costano costano un fottio vai vai compra tutto compra tutto no c'era un'altra arma cannone al plasma eccolo il laser 43 non l'avevo visti un'arma classica con tecnologia al plasma ascolta vendi eh però non c'ho più i soldi ho speso il mondo ho speso il mondo al momento mi tengo sta merda eh tu quanto costi bomba lattina che potentissima però fai così mi compro due bombe lattina yes no ho sbagliato yeee quindi quindi mi ha messo il lanciarazzi lì andiamo bene io qua ci voglio ci voglio lui che non serve a un cazzo però amen magari anzi lo voglio qua nei momenti di magra io sto coso devo venderlo sto coso non mi serve a niente perché non l'ho mai usato perché è troppo debole veloce capoguardia veloce veloce sono sempre quello di prima non è che ha cambiato qualcosa quest'arma contiene ci vuoi vendola via ciao ciao grazie quanti soldi ho mille eh vorrei provare un'arma diversa questa faccia 65 la nostra con i chip un'ottantina questa fa 110 sono comunque abbastanza potenti questo è un cecchino è il cecchino che usava baron ma abbiamo fatto vedere noi il cannone potente questo fa cagare perdonami 60 più 12 coi chip questo è forte però spero ancora col pallanno parari parari compro delle altre bombe lattina ma le bombe lattina sai cosa che mi fanno guarda mi compro le pipe bomb le volevo poi mi compro anche questo via soldi insufficienti ho sbagliato no ti prego sbagliato la transazione devi intercettare figa che gioco vai ti gioco questo gioco eh questo gioco è un un piccolo abortino accetta transazione eh che cazzo bene quindi io adesso se faccio così mi metto la pipe bomb ok boh da post anche un qualche medici non avrebbe guastato ma fa lo stesso da secondaria abbiamo detto che ce ne leviamo le palle non va il fuoristrada te lo tieni tanto noi abbiamo già avuto la wallera siamo felici eh purtroppo è fallito tutto ciao questa transizione inutile c'è la musica giustamente ci lascia momento difficile anche per quanto riguarda le melodie scusami se volessi provare codesto cosa cos'è minecraft fortuna che c'è il mio amico qua vedo l'ora di ricaricarlo no vai no cazzo che obbrio che obbrio gran zog ragazzi qualcuno li deve pur fare questi giochi c'è stato anche il momento soft soft porn col comandante cazzo poteva esserci qualcosa di più più cliche sorsa di scambio io perché sto facendo queste cose non potremmo correre alla missione ce ne freghiamo no perché sono un lutatore selvaggio sono eh sì sì laga laga scambio pronto sì vabbè vabbè scusa sto pompa c'è dei problemi è così beh che si fa stealth visto no no guarda non se ne ha accorto nessuno che sto arrivando parla piano l'ho fatto esplodere tutti i morti tutti i morti tutti i morti questi fuochi non si capisce mai cosa stia bruciando effettivamente trappola la no no non la volevo comunque è qua ok è uno scusa almeno in alto chissà cosa ci sarà qua dentro chissà chissà eh beh certo questo qua prima della guerra con SkyNet era un ex ball quindi girava con le bombe lattina madonna santa li chiude la paratia non ti becca una volta con le paratie di chiude povero cos'è sta polaroid qua aspetta aspetti che faccia una foto eh questo volevo ah non so ma muoio qua con l'hitbox che c'è sto gioco è meglio non rischiare ma perché erai un genio erai una spia con la lombosciatagia sacca si sa no pensavo ci fosse qualcosa di bello e segreto ma non in questo videogioco bitch ma se io provassi a fare una roba orribile tipo e la puttana è arrivato plasmini ah non gli ho fatto un cazzo però cosa ma che anima ma che brutto adesso ti tiro la bomba la zin orco cane che male ma mi so ho premuto per curarmi perdonami ho premuto tantissimo che bello che bei combattimento che emozione quanto gli ma ok no vado di lancia merda posso da qua cosa cosa le hitbox cristo ma cosa ma dove cazzo è ecco adesso prendo la ringhiera prima è passato in mezzo a 18 strati di metallo no no vai muori ti prego non voglio rifarlo no c'era anche l'altra strada ho visto sono andato a cercare delle risorse se continui dal parcheggio diciamo ti fai la via un po' più easy però noi combattiamo non vedo perché fuggire da questi obrobri yes bene oh bene abbiamo un po' di proiettili ce l'ha un posto Skynet chi se ne frega signore purtroppo si è abbassata a livello a livello sergente il comandante ha fatto l'errore ma scusami io devo tirare giù quel bagaglio lì secondo me non fa niente beh no tre punti abilità così no io dicevo che vorrei tirare giù l'aereo HK non ho capito se è una cosa da fare di trama o se adesso non so come non abbiamo abbastanza roba forse è meglio aspettare di avere le armi viola le armi epiche ma no pronto cioè siamo tornati veramente hanno riutilizzato la zona di inizio gioco ci hanno fatto tornare qua stai zitto stai zitto per l'amor del cielo stai zitto stai zitto per l'amor del cielo dai yes buono salviamo continuo a darmi ste robe con esplosivi che non mi interessano ma io ho salvato quanti ne ho di eh ma con 6 razzi cosa vuoi farsi a questo no vedi non abbiamo non abbiamo ancora abbastanza potenza di fuoco secondo me cioè quello la fa la ronda io ci ma venite qua sono più bombe no il dual wielding t800 t800 questi sono abbastanza sfortunati Terrasi fine fam ha 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 на ha altra 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 e oppala guarda 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 che genio visto con la polaroid vai che voli ricarico non lo so non lo so se ommeno non ho abbastanza potenza di fuoco sai c'è un giochino no niente ed anche il giochino ciao eppure io lo devo tirare gioco il merdo qua però di c'è di prendere i codici dall'HK perché il plasmerino che abbiamo adesso è inutile scarica i codici del corrazzato aspetta un attimo perché HK si chiama sia sto bagaglio qui sia sto aborto che che l'altro che è il corrazzato è stana che sei aspetta mi curo e quindi noi non abbiamo non abbiamo proprio bisogno di ah no 500 polvi ci stavo un po' attento ma guarda che con i T-800 raccogliamo un sacco di roba no appunto stavo pensando per il discorso platino a dover tirar giù l'aereo ma non ci interessa tirar giù l'aereo non ce ne frega niente noi dobbiamo andare a completare il discorso di prendersi i codici da quel robottone là perché c'è il corrazzato HK e aereo HK questo è l'aereo che no 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 ma amici ma io voglio andare là cioè basta cazzo faccio passare scusa mi posso secondo me devo fare il giro comunque da là o no posso tagliare qua in mezzo no non puoi perché c'è il muro invisibile ci devi passare ci devi passare per forza cioè ti senti figlio che dici ah guarda ho trovato un percorso secondario volendo c'è anche questa cosa fare no no ci passi per forza abilità abbiamo tre punti ricarica più rapida non stiamo ricaricando upgrade di armi più efficace del 20% facciamo esplosivi più potenti costruzione non ce n'è mai fregato un cazzo guarda che roba io faccio armi a sto punto è invisibile boh post vediamo quanto funziona l'invisibile direi abbastanza si sta sorvolando ma non si vede cosa che esplode qua non c'è niente che esplode no no ci è rimasto malissimo se nulla con buon calibro 12 non posso sistemare nel dubbio che bello che bello questi ultimi attimi con te pompador stai morendo stai morendo che belli combattimenti sto gioco un'emozione unica basta basta vai così dai è forte che emozione ultima il tuo livello ha che no se l'avessi visto avrei messo lì il punto che non è vero ci farei ma come vola come le macchine di lupen cioè di lato non so tonna questi li tiro continua ad arrivare mi in mano quella minchia di no dentro il fire guarda incazzato no veloce veloce scevola che ha detto a quel terminal dai con i piedi metallici scevola grazie mille ti muovi coglioni luttare mi fa gagare non è vero io vado qua ma cosa me ne frega ma si chi è là quello con lanciafiamme il nemico più inutile di tutta la campagna ma qua c'è il dual wielding rompe cazzo la madonna che dolore l'hai voluto tu eh ti metto ti metto no se vabbè dove è andato perdona mi ha finito i colpi è quasi madonna incazzato e vabbè ho fatto un malissimo gli ho fatto per sei giorni a rialzarsi vorrei usare l'arma viola io ma ho capito devono sentirci mortaretti fuori casa in questa quarantena tornata la passione delle micette lanceranno dai balconi lanceranno cos'è sta roba ancora ok quindi scusami è chiusa questa zona questa zona è chiusa tantissimo sono venuto qua per niente senti senti che fanno scoppiare le robe che bella meccanica questa Gordon Freeman sei tu? no assolutamente no direi pronto che borsa dai ma quanta gente c'è qui guardali guardali tutti i ferri incazzati guardali ci sono buggati tutti puoi danneggiare il corazzato lanciando razzi contro il generatore che si trova sulla loro schiena inoltre i corazzati HKK possono essere disattivati per alcuni secondi lanciando razzi contro la testa vabbè io un lanciarazzi ce l'ho ma ho un razzo si però ho capito boss fight e va bene però mi devi dare della roba i razzi che mi hai messo qua vanno bene no vedi ho comprato il lanciarazzi farlocco ho comprato il lanciarazzi che non serve a un cazzo faccio 18 per non sembrava così sfigato nel film posso dirlo posso dirlo che era molto più bello nel film però non c'era questo sound fortunatamente spara un colpo all'anno povero se come se mi prende eh sì però bacca la puttana se non mi dai il lanciarazzi giusto come faccio non ho il lanciarazzi ragazzi non ho il lanciarazzi corretto ho i razzi ma non ho il lanciarazzi quindi cos'è come questo heavy metal farlocco ma mi devo avvicinare cosa faccio se non lanciarazzi scusami lo vado a cercare che cazzo devo dire perché non si vede mi facciamo la foto vado a dei cazzati no no eccolo guardalo è quello della nintendo è la periferica del nintendo il missile a guida laser segue la traiettoria dell'indicatore non ci interessa una bene amata guarda perché noi adesso facciamo tic anzi facciamo tic tic boh oh dai oh la prima cosa decente che vedono in gioco la visuale del terminator reale guarda tiriiri tiriiri guarda il drone è arrivato madonna che danno che gli ho fatto posso fare così guarda ma se mi avvicino tanto ma lui mi prende attraverso se stesso è geniale è geniale questo carro è incorporeo per i suoi blaster in oh cazzo che cazzo dovete fare contro il pompa di dio che non è una bestemmia no dai se concentri il colpo gli fai una rosata nell'occhio prego madonna madonna ma batti terminator con i pughi fa le scossine si sta incazzando allora perdonami il l'aereo è intoccabile questo gli fai colpo critico vabbè non gli fai danno però si è spento no si è spento veramente no sei già riacceso figlio ho capito ma se non mi dai il tempo vabbè l'amarezza l'amarezza continua doveva chiamarsi sto terminato porco quanta roba alvin ma te ne vai a fare un po' hai mai preso in considerazione questa idea orco orco la madonna questo se mi pigliava tante care cose tante care cose le boss fight quelle belle ma basta rocket l'immortale va dentro più o meno soffro perché mi tocca vedere degli effetti incredibili direttamente dall'86 però dove è andato quel coglione è morto è morto adesso rocket run è l'anno ora e è l'anno vabbè 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 Il codice di sicurezza, fuori da qui! Ho bisogno di prendere una napola. Questo è stato esattivo. Così, wireless. Seconda generazione, trofeo guadagnato e in teoria ci rimane di concludere il gioco. Adesso vedrò come separarvi questa parte finale epica di video. Non penso ne farò uno unico perché diventerebbe troppo lungo e troppo peddio immagino. Non voglio roba esplosiva vicino che non mi interessa. No, è chiuso qua, ti prego. Guarda che si è più vicino a questo, andiamo di qua e via. Ripercorriamo per l'ennesima volta. No, è chiuso! Che dobali! Ok. Yes! Sì, quando un gioco è bello è bello però, c'è poco da dire. Che non è questo il caso, semplicemente. Semplicemente. Sì, avete capito che c'ho una mezza voglia di... C'ho una mezza voglia di... C'ho una mezza voglia di... C'è... Permesso... La puttana! Aspetta un po'. Guarda come si gioca, terminetto, via. Corri e spammi medikit. I codici. I codici... Mi piacciono. Voto 10. Ho i codici. Ok. Allora, andiamo a dire. Non mi dice niente della richiesta che mi aveva fatto di rubare il chip? Oh, che cazzo! C'è, va beh, il Matrix. Prendete i codici di sicurezza, ora. Prendete una chiusura quando pronto. E... è finito! Come dicono, semplice. E' tutto? Eccitazione. Soldi facili. Soldi facili. Soldi facili. C'è Johnny Connor che... Craccava i barco, ma... Immagina cosa succede se si diventano massi producati. Dobbiamo riuscire prima cosa succede. Questo infiltrator ha stato dopo noi per più di un po' di giorni. Che vuoi dire? Mi ha fatto seguire per mesi. Ma questo semplicemente non può essere. Questo prototipo ha stato usato per giorni. E' il stesso modello che ha distruttato la divisione Pacifica. Ma sono collegato con la principale di Skynet e posso vedere i loro plani. E' un'altra cosa. C'è un altro infiltrato incredibile. Sì. 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 E lui ha picchiato. Sì. Si era sbagliato questo copicatore. Ha ucciso Perry. Perry meno. No... Non ho tanto tempo. Dopo aver fatto il pacco, sarò in via. Triplo gioco! Madonna! Ma speriamo di mettere questo pacco a buon uso. La nostra vita potrebbe dipendere. Ho già sentito tutte le blueprinte e i codi di accesso a Conor. Prendete questo plasma dietro. E andate a vedere Baron. Madonna! Dopo gli dicevano, sì sì, l'abbiamo ucciso. Sì sì. Facciamo un sissì con la testa. Un'altra gozzatina rapida. Mi sono fallito il sicario. Zitto, zitto. Zitto, ragazzi. Pa 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 pa. Signori! Per il momento... Stacca... Per il momento stacchiamo ancora. Quindi adesso posso usarlo? Perché il gioco mi dice di sì. Tipo armi? Eh no, perché mi manca un livello. Eh vabbè. Però, in teoria, se posso usare questo... Fanno lo stesso danno. Fanno lo stesso danno. Si va verso il finale. Pararà.